giovedì santo dal vangelo secondo giovanni prima della festa di pasqua gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine durante la cena quando il diavolo aveva già messo in cuore a giuda figlio di simone scariota di tradirlo gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da dio e a dio ritornava si alzò da tavola depose le vesti prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita poi verso dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi di discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto venne dunque da simon pietro e questi li disse signore tu lavi i piedi a me rispose gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci lo capirai dopo gli disse simon pietro tu non mi laverai i piedi in eterno gli rispose gesù se non ti laverò non avrai parte con me gli disse simon pietro signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo soggiunse gesù che ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo tradiva per questo disse non tutti siete puri quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il maestro e il signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi commento al vangelo del giorno di papa francesco la realtà che oggi viviamo in questa celebrazione è il signore che vuole rimanere con noi nell'eucarestia e noi diventiamo sempre tabernacoli del signore portiamo il signore con noi al punto che lui stesso ci dice che se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue non entreremo nel regno dei cieli mistero questo del pane e del vino del signore con noi in noi dentro di noi il servizio quel gesto che è condizione per entrare nel regno dei cieli servire sì tutti ma il signore in quel scambio di parole che ha avuto con pietro gli fa capire che per entrare nel regno dei cieli dobbiamo lasciare che il signore ci serva che il servo di dio sia servo di noi e questo è difficile da capire se io non lascio che il signore sia il mio servitore che il signore mi lavi mi faccia crescere mi perdoni non entrerò nel regno dei cieli e il sacerdozio oggi vorrei essere vicino ai sacerdoti ai sacerdoti tutti dall'ultimo ordinato fino al papa tutti siamo sacerdoti i vescovi tutti siamo unti unti dal signore unti per fare l'eucarestia unti per servire oggi vi porto nel mio cuore e vi porto all'altare sacerdoti calugnati tante volte succede oggi non possono andare in strada perché dicono loro cose brutte in riferimento al dramma che abbiamo vissuto con la scoperta dei sacerdoti che hanno fatto cose brutte alcuni mi dicevano che non possono uscire di casa con il clashment perché li insultano e loro continuano sacerdoti peccatori che insieme ai vescovi e al papa peccatore non si dimenticano di chiedere perdono e imparano a perdonare perché loro sanno che hanno bisogno di chiedere perdono e di perdonare tutti siamo peccatori sacerdoti che soffrono delle crisi che non sanno cosa fare sono nell'oscurità oggi tutti voi fratelli sacerdoti siete con me sull'altare voi consacrati vi dico soltanto una cosa non siate testardi come pietro lasciatevi lavare i piedi il signore è il vostro servo lui è vicino a voi per darvi la forza per lavarvi i piedi e così con questa coscienza della necessità di essere lavati siate grandi perdonatori perdonate cuore grande di generosità nel perdono è la misura con la quale noi saremo misurati come tu hai perdonato sarai perdonato la stessa misura non aver paura di perdonare a volte ci vengono dei dubbi guardate il cristo lì c'è il perdono di tutti siate coraggiosi anche nel rischiare nel perdonare per consolare e se non potete dare un perdono sacramentale in quel momento almeno date la consolazione di un fratello che accompagna e lascia la porta aperta perché quella persona ritorni ringrazio Dio per la grazia del sacerdozio ringrazio Dio per voi sacerdoti Gesù vi vuole bene soltanto chiede che voi vi lasciate lavare i piedi